Ciao e bentornato. In questo tutorial vediamo cos'è il dominio di una funzione reale di variabile reale ed impariamo a classificare una funzione in base alle operazioni che compaiono nella sua espressione analitica. Nel prossimo tutorial vedremo così che una volta classificata una qualsiasi funzione esistono semplici regole che ci permettono di determinarne il dominio. Per cominciare cerchiamo di capire cos'è il dominio, detto anche campo di esistenza di una funzione e perché è così importante saperlo calcolare. Quando si assegna l'equazione y uguale a f di x che definisce una funzione reale di variabile reale senza specificare il suo dominio, si sottintende che esso sia quello naturale, cioè l'insieme costituito da tutti i valori reali che si possono attribuire alla variabile indipendente x in modo da poter calcolare il corrispondente valore della variabile dipendente y. Cerchiamo di capire quanto detto con alcuni esempi. Osservando le equazioni qui in basso si può notare che nell'espressione analitica di una funzione non si può sostituire arbitrariamente qualsiasi valore alla variabile x. Ad esempio, nella prima equazione non si può sostituire alla variabile x il valore meno 2, poiché in questo caso si annullerebbe il denominatore. Infatti, meno 2 più 2 fa proprio 0 al denominatore e sappiamo benissimo che non si può dividere una quantità, in questo caso meno 5, per 0. Nel secondo esempio, non si può sostituire alla variabile x un numero minore di 4, poiché in questo caso il numero all'interno della radice sarebbe negativo e sappiamo benissimo che la radice quadrata di un numero negativo non esiste. Osservando ora il terzo esempio si può notare che non si può sostituire alla x un numero minore o uguale a 6, poiché l'argomento di un logaritmo deve essere un numero strettamente positivo. Infine, nel quarto esempio, in cui è presente la funzione goniometrica y uguale a tangente di x, chi conosce la trigonometria sa benissimo che non esiste la tangente di un angolo multiplo di pi greco mezzi e dunque che non si può sostituire alla x un multiplo intero di pi greco mezzi. Vediamo ora sul piano cartesiano quali informazioni ci fornisce il dominio di una funzione. Graficamente, il dominio ci dà una prima informazione sui settori del piano cartesiano in cui possiamo trovare il grafico della funzione stessa. Ci fornisce il numero dei rami che compongono il grafico e di conseguenza anche il numero dei punti di discontinuità, cioè quei punti in cui il grafico è, per così dire, spezzato. In questi esempi ho calcolato il dominio di alcune funzioni rispettando alcune indicazioni che vi fornirò nel prossimo video. Osservando la prima funzione, possiamo notare che il suo campo di esistenza va da meno infinito a più infinito, cioè è tutto l'asse reale, e dunque la funzione è costituita da un unico ramo che va dalla sinistra fino alla destra del piano cartesiano. Osservando invece la seconda funzione, notiamo che il suo dominio è un insieme costituito da tre intervalli. Un primo intervallo aperto che va da meno infinito a meno uno, un secondo intervallo da meno uno a più sette ed un terzo intervallo da più sette a più infinito. Questo significa che il grafico della funzione è spezzato in tre rami, un ramo appunto che va da meno infinito a meno uno, un secondo ramo che va da meno uno a più sette ed un terzo ramo che va da più sette a più infinito. Inoltre possiamo notare che il grafico della funzione non è presente in x uguale a meno uno ed in x uguale a più sette, poiché sostituendo tali valori nella sua espressione analitica si annulla il denominatore. Osservando il terzo grafico, che si riferisce a una funzione in cui è presente una radice quadrata, possiamo notare che il campo di esistenza va da meno infinito a meno quattro compreso e da più quattro compreso fino a più infinito. La funzione presenta dunque due rami negli intervalli indicati dal campo di esistenza ed è presente una fascia qui al centro in cui la funzione non è presente. In questo grafico ogni quadretto vale due unità di misura. Il campo di esistenza dunque ci indica implicitamente anche i settori del piano cartesiano in cui non è presente il grafico della funzione. Osservando il quarto esempio si può notare che il campo di esistenza va da meno infinito a più infinito e dunque la funzione è costituita da un solo ramo. Ed infine, osservando il grafico della funzione logaritmo di x, possiamo notare che il suo dominio va da zero escluso fino a più infinito e dunque la funzione presenta un solo ramo, mentre la parte del piano cartesiano a sinistra dell'asse y è esclusa, cioè non si trova alcun punto del grafico nel secondo e nel terzo quadrante. Impariamo ora a classificare le funzioni analitiche. Una funzione viene classificata in base al tipo di operazioni che compaiono nella sua espressione analitica. Se compare soltanto un numero finito di operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di radice, si dice che la funzione è algebrica, altrimenti si dice che è trascendente. Le funzioni algebriche a loro volta si dividono in due grandi sottocategorie, le funzioni razionali e le funzioni irrazionali. Sia le funzioni razionali che quelle irrazionali, a seconda del tipo di operazioni che in esse compaiono, possono essere intere oppure fratte. Analizziamo ora ogni categoria nel dettaglio. Le funzioni razionali intere sono i polinomi, cioè sono funzioni in cui compaiono gli operatori matematici più, meno, per, l'elevamento a potenza, con esponente intero positivo e la divisione può essere effettuata solamente se al denominatore ci sono dei numeri puri, cioè in parole povere non ci può essere la x al denominatore. Le funzioni razionali fratte sono invece funzioni nella cui espressione analitica compaiono tutti gli operatori matematici, cioè più, meno, per e diviso, e dunque è presente anche la x al denominatore. Inoltre è presente l'elevamento a potenza con esponente intero, sia positivo che negativo, poiché vi ricordo che ad esempio x alla meno 3 è uguale a 1 fratto x alla terza e dunque, anche se visivamente può ingannare, questa è una frazione algebrica. Possiamo dunque riassumere quanto detto dicendo che le funzioni razionali intere sono i polinomi, mentre le funzioni razionali fratte sono le frazioni algebriche. Passiamo ora alle funzioni algebriche irrazionali, che sono le funzioni in cui compare l'estrazione di radice, oppure il che è equivalente in cui compaiono esponenti frazionari. Le funzioni irrazionali intere contengono al loro interno tutti gli operatori matematici, più, meno e per, mentre la divisione può essere effettuata solamente per numeri puri, come nel caso delle funzioni irrazionali intere. In questa categoria sono presenti anche le radici di ogni indice e la x può essere elevata a esponente razionale, cioè a una frazione, purché questa frazione sia positiva e dunque l'esponente può essere razionale positivo. Per quanto riguarda infine le funzioni algebriche irrazionali fratte, possiamo affermare che al loro interno sono presenti tutti gli operatori matematici, più, meno, per e diviso, e l'elevamento a potenza può avvenire con esponente razionale qualunque, sia positivo che negativo. Passiamo ora alle funzioni trascendenti. Queste si dividono in tre grandi sottocategorie, le funzioni esponenziali, le funzioni logaritmiche e le funzioni goniometriche. Nelle funzioni esponenziali la variabile indipendente x compare all'esponente. Ci sono poi funzioni esponenziali a base fissa, come questa, in cui la base è il numero fisso 2, e funzioni esponenziali a base variabile, in cui anche la base dipende dalla variabile indipendente x. La cosa da ricordare è comunque che una funzione, per essere esponenziale, deve avere la x all'esponente. Nelle funzioni logaritmiche, la variabile x compare all'interno dell'argomento di un logaritmo, indipendentemente dal valore della base del logaritmo, sia essa 10, 3, oppure la base naturale, cioè il numero di nepero, che è un numero reale illimitato approssimativamente uguale a 2,718. Infine, una funzione viene classificata come trascendente goniometrica quando la variabile indipendente x compare all'interno dell'argomento di una funzione goniometrica, ad esempio all'interno di un seno, di un coseno, di una tangente o di una cotangente. Vi ricordo che vi sono molte altre funzioni goniometriche, però non è il caso di citarle in questa sede. Ora che abbiamo classificato le funzioni in base alla loro espressione analitica, siamo in grado di fornire alcune indicazioni che ci permetteranno di determinare il loro dominio. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video vedremo come si calcola il dominio della maggior parte delle funzioni analitiche. Vi aspetto. Ciao!